Noi studenti chiediamo prima di tutto dialogo e poi una scuola che possa finalmente dopo due anni di devastazione nella didattica a distanza, soprattutto anche a livello psicologico oltre che didattico, un ritorno completamente in presenza, quindi a vederci in faccia insieme ai nostri professori tutti nelle classi. È la posizione della consulta provinciale degli studenti a circa un mese dal suono della prima campanella per il nuovo anno scolastico, un anno tra i banchi che gli studenti sono tornati a chiedere che avvenga in presenza ed il tema è stato proprio al centro dell'ultima riunione coordinata dalla prefettura di Pistoia durante la quale la provincia ha annunciato di aver predisposto un aggiornamento del piano di trasporto scolastico che interessa in primo luogo i ragazzi delle superiori anche facendo ricorso a mezzi privati, RFI e Trenitalia, hanno poi garantito il trasporto in sicurezza sui trenni dei ragazzi che viaggiano per regarsi a scuola tra Pistoia, Montecatini e Pescia. Il tema principale è quello dei trasporti e della situazione delle classi, quindi il rischio sovraffollamento. Come suggerite possono essere affrontati questi due temi? Sono due temi che sicuramente vanno affrontati con il dialogo costante con le istituzioni e con le aziende di trasporti, con le singole scuole. Noi siamo pronti a cercare soluzioni insieme a loro, speriamo di non ritrovare situazioni al limite come settembre scorso su trasporti pieni, anche più del necessario e speriamo anche che nessuno venga lasciato a pieni, nessuno venga lasciato indietro in questo. Vi state interrogando sul prossimo anno scolastico che questioni stanno uscendo come consulta provinciale degli studenti? Ci stiamo sicuramente interrogando su quello che potrà essere il prossimo anno scolastico. Il punto interrogativo più grande sarà effettivamente l'azienda di trasporto Copit che sta attraversando un momento di transizione per lei e che purtroppo investirà anche gli studenti. Noi speriamo che anche in questo momento transitorio il dialogo e il confronto restino al centro dell'attenzione per poter offrire un servizio a tutti tenendo anche le tariffe basse, cosa che non sempre è successa purtroppo.